Anche noi presenti all'interno del Civic Center, grazie al mirabile lavoro svolto dall'amministrazione che restituisce questo immobile alla città, alla pubblica fruizione. Noi parteciperemo con un evento che si articola in due giornate, 1 e 2 di aprile, in cui saranno presenti artisti, workshop e anche momenti di intrattenimento, di musica dal vivo, degustazione. Allora, nell'ambito del progetto che è Sorsi di Note abbiamo scelto il titolo dell'evento Oradaria proprio per sottolineare che ci troviamo all'interno di un ex carcere e quindi abbiamo giocato sull'equivoco della frase proprio per sottolineare e mettere in luce la ristrutturazione da parte dell'amministrazione di questo immobile che era prima destinato ad un altro utilizzo che è appunto quello di un carcere. Il programma prevede un'inaugurazione che sarà fatta alle 18 del giorno 1 con dei trampolieri che apriranno a Modina fiaccolata il nostro evento e poi seguirà un intrattenimento musicale con sax e pianoforte. All'interno della struttura invece verranno ospitate le mostre di Francesca De Santi, Emanuele Lombardo e Tania Lombardo e di un iutaio che esporrà appunto dei violini che poi verranno utilizzati nel corso della manifestazione da artisti musicisti. A seguire ci sarà una degustazione che verrà offerta dalla tenuta Gorghi Tondi e un intrattenimento musicale dopo cena. L'indomani invece l'evento inizierà alle ore 10 per chi volesse venire qui a fare la colazione con noi. Alle 11 sarà un appuntamento con lo yoga ad opera della maestra Giussi Gennaro e seguirà una conferenza alle ore 17.30 proprio per il riuso degli immobili, in questo caso appunto del carcere che ci sta ospitando. A seguire invece ci sarà una conferenza tenuta dal professore Di Matteo e dall'officina periferica. A seguire ancora invece ci sarà l'aperitivo con Mauro Carpi. Grazie.